è che è un materiale anche intrinsecamente già sostenibile perché può essere praticamente riciclabile all'infinito e quindi diciamo nell'ottica dell'economia circolare quindi quella filosofia che poi permette di promuovere modelli di business sostenibili sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista economico è un materiale fondamentale diciamo che ovviamente ci sono delle sfide delle sfide importanti in quanto sappiamo che la produzione dell'acciaio diciamo genera diversi sottoprodotti che se ben gestiti possono essere utilizzati per diciamo combattere quello che è il riscaldamento globale oppure i problemi ambientali che sono diciamo sotto gli occhi di tutti ad esempio se la produzione di acciaio genera calore questo se opportunamente recuperato ad esempio può essere utilizzato per scaldare o per affondere parte di rottami i gas che vengono generati possono ad esempio essere utilizzati per produrre energia oppure parte delle scorie possono essere utilizzati come filler o riempitivi per sottofondi stradali o in sostituzione di cementi diciamo che non sempre questo è possibile come per esempio per alcune categorie di scorie dove noi come CSMT in collaborazione con la startup Epiros stiamo lavorando cerchiamo ad esempio metodi innovativi per poter trasformare alcune tipologie di scorie come ad esempio le scorie bianche che non sempre è possibile utilizzare tal quale e ad esempio dalle scorie tramite dei processi innovativi è possibile ottenere dei materiali comunque che sono ad alto valore aggiunto sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista commerciale e questo per far sì diciamo di avere un'economia circolare che diciamo dà un approccio a tutto tondo e permette comunque diciamo di contribuire alla decarbonizzazione comunque anche di altri settori oltre a quelli dell'acciaieria Comunque con questo volevo dire che le sfide appunto sono tante e sicuramente l'acciaieria hanno un ruolo importante per limitare quali sono i danni ambientali come quello del riscaldamento globale quindi è necessario intraprendere delle azioni corrette per salvaguardare il futuro del nostro pianeta e diciamo con questo appunto vi lascio a quello che poi ci ha rappresentato dai colleghi Carlo Brondi e Michele Andreotti che oggi ci introdurranno al tema della sostenibilità ambientale appunto nel settore dell'acciaio e ci presenteranno alcuni strumenti normativi di labeling e ci introdurranno all'analisi del ciclo di vita e dell'implementazione a livello industriale di sistemi per il monitoraggio dinamico delle performance ambientali con questo vi auguro un buon ascolto e passo la parola a Carlo e a Michele allora grazie 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 tantissimo e allora innanzitutto ringrazio CSMT per questo invito che è molto gradito ringrazio anche l'ampio uditorio diciamo io non mi aspettavo così tante persone onestamente allora io e Michele oggi vi presenteremo in maniera molto generale perché purtroppo non il tema è amplissimo cioè potremmo discuterne davvero giorni non entreremo in alcuni casi in un dettaglio così spinto diciamo come ci si può aspettare perché ognuna delle soluzioni che vi prospettiamo di suo diciamo ha una una sottodeclinazione quindi abbiamo preferito diciamo non non spingere troppo su nessuna delle delle soluzioni che poi vi presenteremo per evitare un po' di di evitare di tediarvi perché le slide sono comunque tante un po' perché ripeto questo questo tipo poi di approfondimenti sono rimandati a come dire ad approfondamenti specialistici a formazioni diciamo dedicate ok quindi detto questo io inizierei subito e allora quindi oggi di che cosa allora innanzitutto chi siamo perché magari non tutti ci conoscete e vediamo se la slide riesce ad andare ok allora noi facciamo parte del CNR che è il Consiglio Nazionale delle Ricerche che è il più grande istituto pubblico di ricerca facciamo parte di Stima che sta per l'Istituto di Sistemi Tecnologie Industriali Intelligenti per il Manifatturiero Avanzato che è un istituto che è come dire focalizzato prevalentemente sull'ambito industriale tra i vari istituti del CNR e quindi all'interno voi dovete pensare che gli istituti all'interno del CNR sono circa un centinaio e sono un centinaio quindi sono un po' tanti e si occupano di qualunque ramo dello scibile quindi siamo in Italia circa 8000 persone noi nel nostro ambito specifico ci occupiamo proprio di processi industriali per lo più in realtà manifatturiero ma ci stiamo spostando anche poi sull'industria di processo e il mio gruppo di ricerca in particolare nel corso del tempo si è occupato di analisi del ciclo di vita e quindi nell'arco diciamo di quasi vent'anni e dedicandosi sia ad aspetti sia ad aspetti di 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 normazione sia ad aspetti di sviluppo di nuovi tool sia ad aspetti di analisi diciamo di tecnologie esistenti di ecodesign insomma quindi un po' un po' diciamo il tema della sostenibilità l'abbiamo visto da diverse da diverse aree veniamo subito appunto diciamo della del di cui parleremo oggi allora oggi ci occuperemo specificatamente del di cosa del questo è un approccio estremamente semplificato però del problema della sostenibilità inteso come inteso come paradigma che modifica l'ambito diciamo industriale in questo caso quello dell'industria dell'acciaio che che va a modificare diciamo la la modalità in cui le aziende normalmente lavorano quindi proprio detto detto in soldoni questo ovviamente questo tipo di dinamica è su diversi livelli quindi non non c'è solo il livello della sostenibilità in senso stretto che ha una sua declinazione ma diciamo che questo tipo di di pressione noi la vediamo a diversi livelli quindi adesso cercheremo di affrontarli in maniera separata allora sicuramente c'è un discorso diciamo di trend generale della sostenibilità di cui dobbiamo necessariamente parlare e poi a cui segue chiaramente una modifica del quadro normativo quindi le varie iniziative che a livello globale europeo locale regionale vengono messe in atto fino a una standardizzazione crescente quindi del o comunque a una comunicazione ambientale crescente da parte delle imprese di cui parlerà Michele nel dettaglio e di meccanismi di mercato che si innescano quindi conseguentemente in realtà sono quasi in parallelo queste due cose anche di questo vi parlerà poi Michele e poi alla fine riprenderò la parola per parlarvi un po' dei meccanismi di reingegnerizzazione cioè delle tecnologie esistenti all'interno delle singole imprese che possono supportare questa transizione ecologica quindi quando parliamo di reingegnerizzazione non dobbiamo solo pensare a tecnologie in senso stretto ma anche a modalità di gestione dell'impresa quindi oppure a competenze specifiche che vengono implementate all'interno delle imprese benissimo iniziamo questo lungo viaggio che cercando di ridurlo di renderlo agevole quindi è anche non troppo ecco non troppo tedioso diciamo perché ripeto le aree sono parecchie allora partiamo innanzitutto dei trend ambientali quindi i trend ambientali che sono trend ambientali in realtà anche sociali quindi cosa intendiamo quando parliamo di sostenibilità allora la sostenibilità è un concetto in realtà abbastanza antico prende diciamo spunto già dal 1762 quindi queste sono le prime le prime aree diciamo in cui questi sono i primi anni in cui si è iniziata a manifestare diciamo l'esigenza da parte della società comunque di provare a regolare o quantomeno rendere un po' più un po' più armonico il rapporto diciamo tra uomo e natura le date cruciali della sostenibilità sono il 1972 con la pubblicazione Limit to Growth che sancisce fondamentalmente un concetto di base ovvero che non è possibile svilupparsi in maniera indefinita senza andare a toccare il come dire i margini di sopravvivenza del 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 genere umano e poi un'altra data sicuramente estremamente importante poi il 1987 in cui è stato coniato il termine di sviluppo sostenibile poi fino al più recente 2015 in cui poi sono stati promulgati gli SDGs cioè i Sustainable Development Goals di cui parleremo fondamentalmente il concetto di sostenibilità si basa su cosa su un tentativo perché è un tentativo di disaccoppiare gli impatti quindi gli impatti come impatti negativi quindi che sono ambientali ma sono anche poi sociali tendenzialmente oppure economici perché per esempio chiaramente per esempio se c'è una scarsità di una risorsa questa cosa si traduce in un in un costo crescente e di disaccoppiarlo invece dal consumo di risorse e in generale dal livello di benessere dal human well being quindi il concetto di sostenibilità fondamentalmente è questo ogni qualvolta io provo a creare un punto di raccordo diciamo creando delle soluzioni che consentano di mantenere la sopravvivenza in realtà non stiamo neanche più parlando di human well being ormai stiamo parlando di sopravvivenza del genere umano di mantenimento degli standard di vita attuali nel tempo io sto parlando di sostenibilità se volessi allora in termini concettuali quindi la sostenibilità prevede che ci sia un quest'area diciamo in cui sia possibile mantenere gli standard ambientali una crescita economica e i progressi sociali che da un punto di vista industriale vuol dire che alla stessa maniera io devo avere un'area in cui è possibile avere delle pratiche operative industriali che siano inclusive da un punto di vista sociale che siano green quindi poi oggi parliamo proprio di questo e che siano profittevoli quindi questo sempre da un punto di vista concettuale se volessimo spiegarlo in termini sempre con un esempio pratico se pensiamo al po per esempio quindi a quello che sta succedendo in questi giorni quindi stiamo parlando del 27 giugno del 2022 in cui stiamo toccando vari record di temperature non solo in Italia ma in vari punti del mondo ecco questo cosa vuol dire fare sostenibilità vuol dire da un punto di vista globale cercare di creare delle soluzioni che siano in grado di mitigare per esempio la curva di riscaldamento globale e quindi complessivamente che avranno un effetto nell'arco di un tempo si spera breve ovviamente e che siano in grado di rendere reversibili alcuni processi di degradazione naturale quindi per dire ipoteticamente riuscendo ad agire sull'iscaldamento globale è possibile evitare che ne so per esempio il fatto che il Po abbia un sia così in secca o che ci siano per esempio delle risalite del mare per 30 km che è quello che sta succedendo attualmente ovviamente la sostenibilità ha vari tipi di declinazione quindi noi oggi la conosciamo sotto vari nomi vari nomi che sono tipo economia circolare la conosciamo anche sotto il nome di green production eco friendly production oppure clean production la conosciamo sotto variatissime salse il concetto di fondo che bisogna ricordarsi della sostenibilità e che il cappello generale a qualunque sottoparadigma è che la sostenibilità va a toccare va a regolare il rapporto che c'è tra l'ecosistema cioè quello che abbiamo trovato lo stock di risorse naturali ed energetiche con la finalità di preservare quindi il livello di benessere diciamo del genere umano e nel contempo mantenendo il più possibile inalterato questo stock di risorse in termini ancora più stretti quindi quello che dobbiamo sapere è che ogni qualvolta che c'è un processo quindi che va a qualunque tipo di prodotto che sia un paio di occhiali o che sia una billetta questo processo si porta dietro quindi sia dei consumi diciamo quindi un prelievo da parte della cosiddetta ecosfera e una serie poi di emissioni quindi queste emissioni vanno ad alterare il quello che diciamo l'equilibrio naturale che si è innescato nell'arco di milioni di anni e noi attualmente diciamo come specie umana viviamo all'interno di quello che si chiama una tecnosfera che non è nient'altro che un ambiente fortemente antropizzato quindi che sono banalmente le città le industrie quindi le industrie fanno parte diciamo di questa di questa tecnosfera e il punto è che la tecnosfera non essendo disaccoppiata dall'ecosfera ma essendo strettamente correlata non è in grado diciamo di fare a meno dall'ecosfera ma al tempo stesso non è in grado di avere un prelievo diciamo di risorse sufficiente per non alterare in maniera irreversibile l'ecosfera quindi questo è il concetto cerchiamo di entrare un po' più in dettaglio sul nel concetto di sostenibilità e spieghiamo perché è così complicato alle volte anche cercare di spiegarla e anche pensare che sia facile diciamo attuare delle soluzioni e cerchiamo di spiegarla attraverso cinque concetti allora innanzitutto la sostenibilità ha a che fare con qualcosa di complesso di complesso perché? perché va a toccare non solo gli ecosistemi gli ecosistemi sono delle cose abbastanza complicate diciamo hanno dentro una parte per esempio che ha a che fare normalmente con uno stock di risorse abiotiche quindi stiamo parlando di minerali che sono normalmente presenti in natura e di risorse abiotiche quindi stiamo parlando quindi di specie viventi che a loro volta hanno un rapporto con diciamo con la specie umana è un rapporto abbastanza complesso cosa vuol dire questo? Vuol dire che questo tipo di rapporto è non è semplice ma ha dei vari effetti per esempio ha delle cosiddette le cosiddette dinamiche emergenti quindi quindi fondamentalmente quando parliamo della regolazione dei flussi di materia e di energia tra l'ecosfera e la tecnosfera stiamo andando a regolare qualcosa che è altamente complesso cerchiamo di spiegarlo un primo aspetto da tenere presente per esempio che i sistemi complessi hanno dinamiche emergenti non tocchiamo la biosfera tocchiamo semplicemente solo la solo diciamo la la tecnosfera cioè noi se io oggi decido per esempio di produrre un prodotto che consuma il 50% di meno siccome questo prodotto va a toccare una la dinamica del consumo che è una dinamica sociale può succedere che per esempio una soluzione green abbia un effetto negativo è una cosa sembra assurda ma avviene questo effetto si chiama effetto di rimbalzo quindi per esempio se vende una macchina che consuma il 50% di meno magari una persona tende a utilizzarla all'80% in più quindi questo è legato a un modello di consumo quindi questa dinamica emergente che un progettista diciamo green tende a non considerare si rivela negativa quindi questo è un primo effetto quindi non pensiamo che ci sia una linearità tra una soluzione green e poi quello che succede quindi questo è un primo aspetto l'altro aspetto è che c'è una interconnessione quindi quando vado a toccare una variabile per esempio il tipo fisico per esempio il riscaldamento climatico ho un effetto innanzitutto sugli ecosistemi ma anche sulle società quindi e sono fortemente interconnesse tra di loro quindi non possiamo pensare di toccare una problematica ambientale cercando poi pensando che l'effetto sia limitato solo al riscaldamento quindi il riscaldamento climatico non è solo il riscaldamento climatico ha anche tutta un'altra serie di rilevanze per esempio non so se avete saputo che recentemente c'è stato un violento assalto a Melilla quindi in Spagna che è legato a un tipo di migrazione che si fa sempre più consistente che è una migrazione di tipo climatico quindi questi aspetti sono fortemente interconnessi e questo non riguarda solo l'adesso ma anche storicamente diciamo è quello che è accaduto in passato anche per dire durante la rivoluzione francese o che ne so durante la rivoluzione irlandese esistono sempre delle correlazioni tra dei macro parametri ambientali e poi dei parametri sociali quindi queste cose vanno tenute in corte un altro aspetto importante e che le dinamiche complesse sono molto difficili da regolare quindi com'è che si possono regolare nei sistemi complessi una delle cose che si cerca di fare si agisce su dei punti di leva per esempio nel caso del covid quindi cerco di utilizzare il covid perché anche quello è un esempio di sistema complesso in ambito covid una delle cose che si è cercato di fare per esempio è il distanziamento sociale il distanziamento sociale nel caso dei contagi molto rapidi e si chiama punto di leva perché è un effetto che agisce in maniera drastica molto drastica limitando i contatti umani e causa quindi anche una limitazione del contagio perché dico una cosa di questo tipo perché possiamo aspettarci che in futuro via via che poi la crisi l'emergenza ambientale avanzi poi la richiesta di punti di leva cioè di interventi drastici si diventi sempre più pressante quindi com'è che lo stiamo facendo attualmente per esempio con la carboneutrality con misure di vario tipo diciamo un altro aspetto estremamente importante è l'esponenzialità l'esponenzialità perché è così rilevante perché la dinamica per esempio del global warming che per esempio è solo quello quello che vedete scritto carbon dioxide è una dinamica esponenziale questo vuol dire che mentre ci possiamo possiamo predisporre per cercare di ovviare ad alcuni effetti in maniera lineare con misure lineari dicendo che so del 10% all'anno per esempio alcune delle nostre emissioni invece la problematica ambientale può seguire un effetto esponenziale e che vuol dire per esempio che facciamo un esempio che se l'anno scorso ho avuto un record ambientale per esempio in Italia sullo sforamento climatico l'anno dopo ne posso avere 5 6 quindi queste sono le linee di tendenza diciamo su alcune su alcuni effetti ambientali quindi ovviamente questo ovviamente non voglio allarmarvi ma è uno degli effetti che ci possiamo aspettare l'altro ultimo è che mentre alcuni effetti sono reversibili quindi in tipo ambientale per esempio il climate change tendenzialmente siamo ancora in una dinamica di reversibilità per esempio l'utilizzo dell'acqua siamo ancora nella dinamica della reversibilità in alcune categorie di impatto abbiamo già sforato diciamo la non reversibilità per esempio se parliamo di della perdita della biodiversità abbiamo delle specie diciamo delle specie diciamo diffuse che non recupereremo più quindi questo è purtroppo uno delle problematiche ambientali quindi non è qualcosa quando parliamo di sostenibilità che avverrà è qualcosa che sta già avvenendo e che è già avvenuta quindi noi ci troviamo diciamo in the middle cioè nel centro diciamo di questa transizione stiamo cercando di rendere reversibili alcuni effetti che potrebbero rendere diciamo molto più problematica appunto anche la la coesistenza e l'esistenza diciamo umana ok detto questo cerchiamo di capire anche perché il settore industriale finiscono sempre nell'occhio del ciclone perché per esempio se guardiamo i settori industriali sono responsabili in maniera diretta o in maniera indiretta della maggior parte degli impatti perché perché chiaramente tutte le economie industriali sono fortemente collegate alla produzione industriale quindi ai beni e ai servizi quindi sono i beni e i servizi a creare diciamo gli effetti che vediamo quindi le produzioni industriali per esempio sono collegate direttamente al 21% delle emissioni e oppure a un terzo del consumo energetico e all'11% dei rifiuti e al 10% del consumo idrico se andiamo a guardare il settore dell'acciaio più nello specifico quindi vediamo per esempio che il settore dell'acciaio in termini assoluti è quello che tra i metalli cioè tra tutta l'industria dei metalli tende ad occupare un ruolo da leone ma perché perché ovviamente ha delle quantità più consistenti quindi di volumi e anche peso diciamo di materiale movimentato quindi rispetto ad altri settori è abbastanza importante questo in quasi tutte le categorie d'impatto ecco gli uniche due in cui per esempio il rame oppure l'alluminio diciamo la spuntano un po' di più hanno a che fare per esempio sull'ecotossicità sulla tossicità però se guardiamo il climate change diciamo l'acciaio è quello che gioca la parte del leone c'è anche da dire che la CO2 tendenzialmente tende a crescere in questo settore ma perché perché comunque c'è sempre una richiesta alta di acciaio quindi è questo il problema principale mentre l'intensità tende a diminuire soprattutto in Europa e vedete per esempio nel secondo grafico quello che sta succedendo è che moltissimi impianti stanno ricondizionando stanno comunque ricalibrando le loro attività nel tentativo di mitigare diciamo l'impatto per esempio climatico ma anche altri tipi di impatti però complessivamente la domanda di acciaio cresce e quindi ci sono questi due effetti di controtendenza quindi da un lato cerco di minimizzare gli impatti ambientali all'altro sta crescendo la domanda e non solo ma si sta anche spostando come stiamo vedendo in altre parti del mondo se vedete la parte a destra il grafico a destra vediamo che c'è una parte sempre più consistente dell'acciaio che finisce in Cina Cina tra l'altro in cui il monitoraggio ambientale non dico che non esiste ma è molto molto più all'acqua di rose questo è un problema serissimo anche se diverse aziende cinesi adesso hanno iniziato anche a utilizzare sistemi labeling europeo però chiaramente bisogna difendere molto il settore europeo perché non lo dico per un discorso di campanilismo perché è probabilmente quello più green sia da un punto di vista tecnologico ma anche da un punto di vista di quanto è tracciato rispetto ad altri settori quindi questa è una problematica quindi cosa vuol dire far questo vuol dire quindi però a livello poi europeo ridefinire quindi le politiche globale utilizzare gli standard di riferimento appropriato quindi gli accordi di partnership e ovviamente migliorare quindi la sostenibilità delle soluzioni esistenti e ad avere una visione olistica dei prodotti c'è anche da dire che il l'acciaio come sapete viene utilizzato prevalentemente nella parte infrastrutturale almeno a livello europeo e poi gli altri mercati di riferimento vanno un po' nel mechanical equipment e un po' nell'automotive diciamo questi sono i tre grandi e ovviamente poi nei prodotti di metallo che sono più a valle diciamo questi sono i quattro grossi ambiti diciamo i quattro end market diciamo di riferimento del settore dell'acciaio quindi cerchiamo di capire cosa accade a livello normativo vado più veloce a livello normativo quello che succede è che via via che l'emergenza climatica è aumentata o l'emergenza ambientale è aumentata sono state fatte leggi leggi protocolli ambientali a livello internazionale questa cosa è proprio un cammino in parallelo per esempio il CAS che diciamo il codice chimico che viene utilizzato in tutti i prodotti deriva dal fatto che ci siano stati incidenti come quello della Union Carbide e così come il protocollo di Montreal ha creato deriva dal fatto che è stato rilevato il buco nell'ozono quindi ogni qualvolta c'è un problema ambientale c'è una normativa che interviene purtroppo sempre dopo non prima e questo è un problema serio perché alle volte come si dice quello che può succedere è che si fa una normativa che è perfetta però come dire è troppo tardi quindi questo è il problema serio che c'è e alle volte poi le normative possono intervenire diciamo quando i buoi sono scappati insomma si chiude il recinto quando i buoi sono scappati quindi quello che bisogna evitare in questa fase soprattutto è da un lato non essere troppo restrittivi ma anche fare poi delle politiche che abbiano effettivamente efficacia quella che sicuramente ha avuto più efficacia in ambito internazionale è quella degli SDGs che per la prima volta hanno cercato diciamo nel 2015 sono stati promulgati e che hanno creato tutta una serie di indicatori quantitativi per definire dei target ambientali per farvi capire l'importanza e la rilevanza che il Global Compact ha avuto diciamo a livello internazionale dovete pensare che è lo strumento privilegiato che viene utilizzato nella comunicazione ambientale per esempio in tutti i report di sostenibilità ma anche a livello nazionale quindi è diciamo uno strumento di comunicazione e di successo e rispetto al passato per esempio cosa fa? Stabilisce oltre a questi vari a questi vari 100 macro obiettivi quindi questi questi 16 macro scusate questi 17 macro obiettivi ci sono poi ben 169 sotto obiettivi quantitativi che sono molto importanti perché prima diciamo gli obiettivi erano molto più vaghi e quindi cosa succede? Che quando vengono per esempio create delle partnership a livello mondiale viene anche condivisa una metrica per esempio per cercare di identificare un miglioramento diciamo tangibile quindi la quantificazione degli effetti è diventato come dire uno dei come dire dei nuclei del di qualunque attività ambientale quindi questo per ricordarli ovviamente gli SDGs a livello di acciaio sono molto specifici ovviamente non pesano tutti alla stessa maniera ovviamente sappiamo bene che la climate action è probabilmente quella più importante perché il settore dell'acciaio è un settore energy intensive ma ci sono anche altri problemi sociali legati al fatto che per esempio il settore minerario va a toccare alcuni alcuni paesi diciamo via di sviluppo quindi non c'è ovviamente solo la sostenibilità ambientale c'è anche quella sociale poi c'è chiaramente l'utilizzo dell'acqua e il tipo di energia diciamo è il fatto comunque di non riuscire a impattare più di tanto sul sistema energetico internazionale e basta quindi queste sono le aree tematiche non le approfondisco perché ripeto ognuno di questi SDGs richiederebbe un approfondimento ecco la cosa che è molto importante ricordare è che ottimizzare o minimizzare un aspetto sociale quindi che fa riferimento un aspetto ambientale che fa riferimento agli SDG non sempre implica che gli altri restino uguali o si minimizzino quindi abbiamo a che fare molto spesso con parametri vettoriali e quindi bisogna avere una strategia di mitigazione che sia ragionata quindi cercando di agire sui punti diciamo che ovviamente servono quindi per esempio posso cercare di mitigare l'aspetto ambientale o l'aspetto energetico ma posso peggiorare quello ambientale quindi sono aspetti tutti da tenere in conto chiaramente l'altro grandissimo piano che è stato promosso è stato il New Green Deal che mira diciamo alla mitigazione climatica nel nel 2050 e che ha tutta un'altra serie diciamo di 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 sotto azioni che vengono applicate a livello europeo e che agisce su vari settori tra cui anche lo still anche il settore dell'acciaio e ha anche qui una serie di target abbastanza fissata e che vanno a toccare ovviamente non solo il settore dell'acciaio e il settore energy intensive ma anche per esempio la parte di agricoltura e un'altra iniziativa estremamente importante è quello della COP26 ecco questa su questo ci fermiamo un secondo giusto per dirvi che chiaramente mira a integrare a cercare di ridurre al minimo possibile il riscaldamento climatico quindi ne sentite parlare spesso attualmente abbiamo un orizzonte diciamo di crescita climatica che vorrebbe puntare all'1,5 se tutto va bene in base ai Paris Agreement ma che nella peggiore delle ipotesi può arrivare al 3,6 gradi o al 7,2 gradi quindi stiamo parlando di scenari assolutamente terribili perché 7 gradi medi a livello globale vogliono dire che potremmo rischiare tutta una serie di cose allora questo che cosa vuol dire in termini di policy che ci possono essere delle politiche di tipo lineare che però in realtà in maniera dipendente diciamo dalla crescita dell'emergenza climatica possono invece essere avere dei path come si dice accelerati oppure ritardati che vuol dire che comunque mi devo basare su dei benchmark settoriali e devo cercare di ridurre per esempio le emissioni ad un ritmo accelerato oppure a un ritmo ritardato ma sempre basandomi su dei benchmark questo cosa vuol dire vuol dire che mi devo basare devo conoscere molto bene qual è il mio impatto ambientale quindi questo è fondamentale ma che soprattutto anche le strategie di azione diventano sempre più ridotte e sempre più stringenti per farvi capire se guardate in verde quelli sono tutti gli stati che hanno cambiato nel corso dell'ultimo anno mi sembrava gli NDC che sono i National Determined Contribution che sono ovvero i limiti di emissione che si autoimpongono i singoli stati per cercare di venire incontro alla COP26 quindi questo per farvi capire quanto cambiano rapidamente questi limiti quindi non sono delle cose scolpite nella pietra ma ci possiamo aspettare che nel corso del tempo varino in maniera anche consistente un altro aspetto estremamente importante e questo vi tocca molto da vicino è l'Emission Trading System che cerca di normare il più possibile e di far pagare tendenzialmente le emissioni questo aspetto è particolarmente rilevante se pensate che per esempio l'Emission Trading System hanno toccato solo nel 2022 guardate quanto è cresciuta la curva i 100 euro tonnellate che è sempre poco dal mio punto di vista ma che sta diventando un limite sempre più consistente per l'emissione di tonnellate di CO2 quindi emettere CO2 da un certo punto di vista diventa sempre più costoso soprattutto per le imprese e ovviamente questo causa dei problemi perché per esempio l'Eurofair si è espressa abbastanza negativamente su per esempio su alcune delle iniziative europee perché qual è il problema che a livello europeo magari cerchiamo di normare in maniera molto stringente ma magari a livello internazionale la dinamica non è la stessa soprattutto dai paesi emergenti quindi c'è il problema che magari non si incentiva la competitività del sistema nazionale anzi la si de-incentiva con dei limiti di emissioni troppo stringenti mentre gli altri paesi non si adeguano quindi chiaramente questo è un problema però il trend generale fondamentalmente è questo ovvero che si cerca di fare sempre di più ridurre diciamo l'intensità carbonica di tutti i prodotti e si cerca sempre di più di far pagare l'esternalità diciamo del consumo dei prodotti un'altra cosa che sta accadendo un'altra normativa estremamente rilevante è quella del circular economy di cui abbiamo parlato e che per esempio fissa fondamentalmente la la non dismessibilità dei prodotti ferrosi quindi il limite è fissato per l'80% quindi fondamentalmente cerca di eliminare proprio il concetto stesso di di scarica quindi perché perché da un lato c'è un problema di crisi delle risorse e dall'altro c'è un problema di di cosa fare con diciamo con col waste visto che non è più esportabile quindi soprattutto i paesi alcuni paesi tipo la Cina hanno chiuso le frontiere perché prima c'era tutto un come dire una esportazione offshore diciamo del del nostro del dei rifiuti e non è possibile più di smetterli su scala locale perché ovviamente abbiamo un'occupazione del suolo troppo alta e quindi una l'unica possibilità che c'è è quella di cercare di recuperare il più possibile i prodotti ovviamente è un limite estremamente importante perché implica quindi non solo andare a toccare la modalità in cui i prodotti vengono dismessi ma anche toccare per esempio tutto quello che riguarda il design dei prodotti i sistemi di smaltimento di riciclo dei rifiuti il mercato delle materie prime e secondi quindi il pacchetto della economia circolare va a toccare va a normare proprio tutti tutti questi aspetti ed è uno degli strumenti più importanti diciamo esistenti quindi per economia circolare chiaramente ci riferiamo quindi a un sottoparadigma della sostenibilità che va a toccare appunto proprio la il mantenimento dei flussi diciamo prelevati la natura il più possibile all'interno della tecnosfera che vuol dire che noi dobbiamo fare prodotti più durabili più riutilizzabili che utilizzano meno materiale quindi che possano essere utilizzati il più a lungo possibile quindi questo è uno schema che si vede spesso della Land Cartoon Foundation vuol dire anche per esempio utilizzare molto di più dei prodotti che vengono da prodotti rigenerabili per esempio questo vuol dire introdurre nell'acciaio nel settore dell'acciaio per esempio delle biomasse quindi perché perché le biomasse sì e i minerali no perché le biomasse sono rigenerabili quindi sono rigenerabili questo vuol dire che essendo rigenerabili non vado a toccare lo stock diciamo di materiale che poi va a esaurimento perché non è infinito quindi il concetto diciamo di fondo della sostenibilità è un po' quello di ecosistema industriale quindi sul livello tipo di Canumborg in Italia non ce ne sono molti però esistono e con l'idea che appunto le aziende il più possibile siano in grado di mettere in compartecipazione dei flussi poterli scambiare li mettono a valore e quindi realizzare appunto il paradigma della cosiddetta simbiosi industriale che è diciamo il paradigma dell'economia circolare a livello industriale quindi vuol dire che io devo ogni volta che produco un sottoprodotto o un rifiuto addirittura devo cercare di rendere quel rifiuto un sottoprodotto e oppure automaticamente devo cercare di integrare al mio interno il più possibile delle delle materie prime secondarie che normalmente non avrei utilizzato quindi ogni qualvolta che agisco e che il settore dell'acciaio agisce in questa maniera io non faccio nient'altro che realizzare questo paradigma della simbiosi industriale per esempio gli esempi sono svariatissimi per esempio se prendo un ossido di ferro lo posso utilizzare nel settore del cementificio come ha detto la collega prima ma si possono anche utilizzare che ne so come dei riempitivi in molte industrie si possono utilizzare come concimi in alcuni casi quando opportunamente trattati la cosa che è importante ricordarsi quando si parla di simbiosi industriale che la simbiosi industriale non è a come dire bilancio ambientale zero ovvero quando si fa si applica un approccio di simbiosi industriale bisogna anche incautelarsi sul fatto che l'impatto ambientale si deve ridurre perché altrimenti abbiamo il concetto di economia circolare ma che non è come dire ambientalmente sostenibile che può accadere ecco su questo è molto importante ecco lo dico a chiare lettere perché molto spesso vengono confuse questi due concetti quindi la simbiosi industriale vuol dire circolarizzare i flussi quindi realizzare un paradigma di economia circolare a livello industriale e la sostenibilità ambientale vuol dire invece ridurre gli impatti ambientali e gli impatti negativi sull'ambiente ok andiamo ancora avanti quindi ci sono barriere di vario tipo su cui non mi soffermo che però possono essere superate e ci sono anche delle normative per esempio dei TR dei TS che a livello uni vengono anche per esempio nei settori industriali sono in fase di pubblicazione che possono un po' guidare le imprese che vogliono seguire queste pratiche e ci sono ovviamente anche opportunità quindi le possibilità legate alla circolarità sono più alte rispetto addirittura a quelle dell'economia lineare quindi un settore di business di fortissima crescita anche e che almeno in alcuni paesi per esempio la Danimarca ha prodotto diciamo dei vantaggi economici consistenti un altro pacchetto prima di lasciare la parola a Michele molto importante che voglio dire riguarda invece i prodotti questo sempre a livello di economie e di comunità europea una diciamo un'azione estremamente consistente che si è cercata di realizzare riguardato proprio i prodotti come nel loro insieme attraverso varie iniziative per esempio uno è l'ecodesign working plan che è dal 2022 al 2024 oppure attraverso delle regole settoriali complementari oppure attraverso anche delle regole sul labeling per i consumatori e quindi quello che succede è che la sostenibilità va a toccare quindi sia direttamente i produttori o le industrie ma arriva anche diciamo a valle dai foreground sector attraverso la revisione in cui i prodotti normalmente vengono fatti e la dichiarazione dell'impatto ambientale dei prodotti viene riportata giusto per darvi un esempio vengono toccati per esempio gli aspetti di durabilità affidabilità oppure di upgradabilità diciamo di un prodotto riparabilità quindi tutti questi effetti che vengono messi sotto focus dalla comunità europea poi si riflettono sui settori a monte quindi che devono fornire le materie prime tra cui ovviamente quello dell'acciaio quindi questi aspetti quindi sono diventano sempre più importanti per chi produce beni che tende a rivolgersi ai fornitori per cercare di avere delle informazioni più dettagliate soprattutto sottocantificate che possano chiarificare meglio qual è la sostenibilità della materia prima che viene utilizzata per fare i prodotti un effetto per farvi capire come si sta muovendo l'economia la comunità europea dovete considerare che ci sono attualmente tutta una serie di labeling che sono volontari che però la comunità europea tende a rendere nel corso del tempo sempre più stringenti ovvero sempre più come dire vincolanti per la produzione e per cui a fare oggi per esempio un eco labeling oppure una una perf un product environmental footprint che mi chiarisce qual è il mio livello di performance in futuro mi può salvaguardare quando questo tipo di come dire di di normativa diventa stringente quindi come ultima cosa quindi vi faccio notare quindi che anche il claiming ambientale è sottoposto a normazione quindi ad oggi per esempio non è più possibile dire comunque questo è l'orientamento della comunità europea non è più possibile dire che un prodotto è sostenibile senza aver fatto uno studio che quantifichi qual è l'effetto ambientale oggettivo diciamo e quindi quantificato quindi bisogna gli studi ambientali tendono a diventare sempre più consistenti sempre più richiesti diciamo in ambito di labelling ma anche a livello di per accedere per esempio a dei finanziamenti perché senza questo tipo di normazione non è possibile scusate senza questo tipo di quantificazione non è possibile fare il claiming ambientale e non è possibile quindi accedere a tutta una serie di possibilità come ultima cosa vi parlo del digital product passport ovvero questa è un'iniziativa estremamente importante per cui i prodotti in futuro tenderanno a diventare sempre più virtuali ma non nel senso che diventano immateriali nel senso che le informazioni collegate ai prodotti dovrà essere sempre più come dire certificata attraverso dei sistemi remoti quindi dovete immaginarli come se fosse un QR code che è costantemente applicato al prodotto ma non al prodotto finale ma anche alla materia prima per esempio che arriva e questo perché perché è qualcosa che serve al consumatore serve agli enti regolatori che fanno sorveglianza e serve soprattutto a validare l'informazione ambientale questa dinamica della digitalizzazione dell'informazione ambientale è qualcosa che impatterà fortemente anche sul settore dell'acciaio ecco detto questo lascio la parola a Michele grazie buongiorno a tutti proseguo spero si vede allo schermo Carlo magari tu una conferma sì 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 si vede perfetto allora continuiamo il discorso andando a parlare più nel dettaglio per quello che riguarda gli eco label oppure i clima ambientali come abbiamo parlato recentemente queste tipologie di dichiarazioni ambientali cosa vogliono fare vogliono cercare di mostrare ai consumatori il fatto che un prodotto o un servizio siano rispettosi dell'ambiente questo viene fatto sia in maniera ragionata da parte dell'azienda ma a volte questo potrebbe anche andare incontro ad alcune ad alcuni problemi che vedremo quando parleremo nel confronto del greenwashing ci sono alcune clima ambientali che sono verificati mentre altri vengono gestiti in maniera diversa dalle diverse aziende per questo motivo si individuano diverse tipologie di eco label da punto di vista ambientale partiamo parlando dell'etichetta ambientali di tipo 1 che si riferiscono e rispettano la ISO 14.024 in cui per ottenere questi tipi di certificazioni bisogna andare a fare gli studi dell'analisi del ciclo del prodotto dell'LCA che vanno ad analizzare se determinati prodotti o servizi rispettano dei valori soglia o dei limiti presenzionali che sono definiti dall'organismo preposto e alcune tipologie per esempio possono essere quelle dell'eco label che è molto diffusa specialmente nell'industria cartaria TCO certified che invece si applica al discorso dell'elettronica magari sui vostri schermi o sui vostri pc potete trovare questo simbolo e poi il Nordic Swan che è un ecolabel che è molto diffuso specialmente nel nord Europa in Scandinavia un'altra tipologia di ecolabel è l'etichetta ambientale di tipo 2 in questo caso queste sono etichette che vengono prodotte direttamente dai produttori e vanno a mostrare queste sorti di autodichiarazioni in cui i diversi aspetti del prodotto vengono mostrati per esempio qui possiamo vedere alcune immagini in cui le bottiglie vengono date il fatto che la bottiglia sia al 100% riciclata oppure sia al 100% carbon neutral e così via il fatto di queste tipologie di asserzioni è il fatto che non vi sia una certificazione della parte terza e questo può portare anche a dichiarazioni che possono essere ingannevoli e pertanto bisogna essere molto attenti nel caso si utilizzi questa tipologia di etichetta nel non trasmettere informazioni errate ai consumatori per quanto riguarda invece la terza tipologia di etichetta ambientale è quella della dichiarazione ambientale di prodotto o chiamata anche l'IPD che è in vario momento pro the declaration in cui viene fatto uno studio nel ciclo di vita di questi prodotti che viene successivamente verificato e convalidato da organismi di parte terza l'obiettivo di questo studio non è fornire a differenza del primo tipologia una sorta di etichetta ambientale per dare un valore soglie in questo caso si punta ad avere una possibilità di confrontare i risultati con altri prodotti simili del settore infatti la possibilità di avere i risultati disponibili e liberamente accessibili può facilitare questo aspetto mostrando ai consumatori i veri numeri dati dall'azienda un altro modo per comunicare eventuali strategie aziendali nell'ottica della sostenibilità è quello del report di sostenibilità che si sta mano a mano sempre più diffondendo in ambito industriale per trasmettere specialmente gli aspetti relativi al corpus social responsibility quindi non solamente l'aspetto ambientale ma prendendo in considerazione anche come all'interno del bilancio aziendale vengano trattati altri temi per esempio dal punto di vista sociale sul benessere dei lavoratori o altri aspetti in modo tale da fornire ai consumatori o a chiunque voglia perché molto spesso questi tipi sono liberamente accessibili informazioni su come l'azienda sia impegnata o voglia impegnarsi per rispettare diversi aspetti nel corso degli anni questa tipologia di report per trasmettere i propri risultati verrà sempre più diffusa andando a interessare anche le aziende che non avranno un numero elevato di dipendenti come era finora ma anche aziende un po' più piccole parleremo brevemente di come si compone il il report di sostenibilità in cui c'è una fase in cui l'azienda deve andare a valutare quali sono i suoi obiettivi dal punto di vista CSR come vi ho visto precedentemente valutare come vuole andare a implementarli valutare i quali dati a disposizione e gli obiettivi a lungo termine questo perché il report ambientale deve poter influenzare le decisioni di diversi stakeholder ma anche deve riflettere in maniera chiara e trasparente quali sono i principali impatti sociali economici ed ambientali dell'azienda questo si può vedere come nel corso di diversi anni alcuni aspetti vengono sempre maggiormente diffusi quindi in particolare in particolare nel corso degli anni si può vedere come magari aspetti che erano considerati in maniera inferiore come il discorso sui rifiuti o i sistemi ecosistemici o anche l'uso di risorse rinnovabili venga sempre maggiormente diffuso perché il consumatore chiede maggiori informazioni riguardo a questo perché nel mondo che c'è intorno a lui tutto questo sta assumendo una maggiore importanza ma al contempo l'azienda è difficile per un'azienda andare a dire ok io voglio cercare di avere tutti gli aspetti mappati al meglio che posso perché tutto questo ovviamente è anche una ricetta dal punto di vista economico per questo che si va a mostrare molto spesso una sorta di matrice di materialità in cui si va a identificare per le diverse aziende quali possono essere il significato per l'azienda stessa e quella per gli stakeholder per andare a cercare di mappare quali sono le aree in cui l'azienda e il mercato richiede già molto interesse e quelle su cui l'azienda potrebbe andare a lavorare successivamente nel mondo dell'acciaio per esempio io vi ho fatto qualche esempio molto rapido l'aspetto delle possibilità è molto diffuso qui vediamo i Tenaris di Ori Martin di Alpha Acciai di Acciai Revenete ma questo è diffuso anche a livello europeo e mondiale tutti questi come dicevamo sono liberamente accessibili e se avete su siti internet potete trovarli e scaricarli liberamente e vedere come le diverse aziende mostrano i loro risultati i loro aspetti principali dal punto di vista della sostenibilità e come vogliono trasmetterla anche all'esterno in particolare come esempi che possono esserci abbiamo anche gli esempi di come le possibilità le scelte aziendali vadano ad integrarsi con gli obiettivi di sviluppo sostenibili che prima mostrava Carlo infatti molti di questi obiettivi hanno una ricaduta sull'azienda stessa e il fatto di voler identificare specifiche aree di miglioramento di specifica attenzione all'interno dell'azienda mostra come le aziende possano collegarsi e anche il consumatore o chi è interessato possa vedere effettivamente con dei parametri che sono valutabili quantitivamente come abbiamo visto prima agli SDG come l'azienda possa andare incontro a questa sorta di miglioramento tornando al discorso precedente dei climi ambientali e del repo di sostenibilità tutti questi strumenti vengono dati per supportare l'azienda e non incorrere nel rischio del greenwashing probabilmente molti di voi avranno sentito questo termine che ci si riferisce a una sorta di combinazione tra le due parole in cui c'è la parola green che significa verde per abitudine affondata dal discorso ecologico e whitewashing in cui si voleva nascondere dei fatti spiacevoli in questo modo si vanno a mostrare quando si usano dei termini o si mostrano dei dati che non sono effettivamente reali oppure non sono supportati da dei fatti concreti e verificabili questo può portare come potete ben pensare a delle conseguenze importanti sull'azienda i diversi tipi di greenwashing possono essere molto variegati perché possono esserci delle dichiarazioni vaghe in cui si associa a un'etichetta di prodotto il colore verde il fatto che ci siano delle foglie qualsiasi cosa che possa riportare la natura oppure quando non vengono mostrati i dati in maniera chiara oppure in maniera mendace ci sono delle etichette che possono essere definite genericamente certificati o biologici oppure altre cose quando si vanno a inserire questa tipologia di prodotto non contiene specifiche sostanze chimiche quando queste sostanze chimiche sono già messe a bando da dei regolamenti per esempio europei che ne impediscono l'uso dall'azienda e quindi l'azienda non fa niente di più rispetto a quanto già fatta e già tenuta a non fare per questo motivo l'interno del quadro normativo è regolato da diverse comunicazioni sia all'interno dell'Unione Europea che anche all'interno dello Stato Italiano in particolare la Gcom che è la tutela garante della concorrenza del mercato cosa fa? ha il compito di valutare tenere in considerazione inibire e anche andare a sanzionare con multe fino a 5 milioni di euro quando vengono fatte queste pratiche commerciali scorrette quindi quando ci sono queste pubblicità per esempio che vanno a dare dei risultati delle informazioni che non sono veritiere ingannando in questo modo il cliente infatti i claim ambientali dovrebbero cosa? trasferire delle informazioni che siano documentate scientificamente verificabili e anche circoscritte a specifici aspetti di un prodotto o di un servizio in modo tale che questo possa essere messo in comparazione con altri prodotti gemologini e omogeni concorrenti in questo modo nel momento in cui si può creare una sorta di sinergia tra i consumatori e la concorrenza vi è anche un minore rischio prima di incontro a dichiarazioni ingannevoli perché i prodotti vengono mostrati in maniera trasparente e di conseguenza tutte le aziende vogliono andare a migliorare questo aspetto forse uno degli aspetti degli esempi più importanti che potete sapere è quello successo con Volkswagen in cui vengono mostrati dei dati che erano completamente sballati rispetto ai reali fonti di inquinamento delle macchine diesel che era appunto Volkswagen è stata moltata da Gcom con una multa di 5 milioni cioè la multa massima disponibile allo stesso modo non solamente nei prodotti ma anche all'interno dei singoli stati si può trovare anche del greenwashing in cui ci sono la possibilità di annunci in cui si può andare incontro a una carbon neutrality in un determinato anno in questo caso la Cina entro il 2060 tuttavia nel momento in cui le nazioni non mostrano dei piani veri e propri di decarbonizzazione non mostrano in maniera chiara e trasparente le diverse informazioni che vogliono andare a migliorare per traguardare questi obiettivi in questo caso possiamo andare incontro a un greenwashing in cui non c'è una dichiarazione effettiva della trasparenza di queste azioni per questo motivo una delle cose che le aziende possono fare è quella di andare incontro a andare a produrre degli schemi di andare a rispettare degli standard volontari quindi delle etichettature volontarie di prodotti e servizi di consumo tramite cui l'azienda si tutela mostrando delle informazioni che sono verificate con dei costi anche per l'azienda per trasmettere in maniera chiara e trasparente quali sono gli impatti dell'azienda dal punto di vista ambientale ci sono diverse tipologie di label ambientali che rispondono a questa tipologia a questa richiesta magari alcune di queste le avete riviste probabilmente il fair trade è molto diffuso in ambito del cibo oppure l'epd l'elemento di declarazione di cui parlavamo precedentemente o anche il certified big corporation sono tutti diversi label che vengono sottoscritti dalle aziende e con una sfonte anche di una spesa economica possono trasmettere dei valori ai consumatori e ai diversi stakeholder per supportare tutto questo è interessante l'utilizzo della metodologia del CA cioè l'analisi del ciclo di vita del prodotto questo per andare incontro sia alle richieste dei clienti del mercato che anche proprio le diverse scelte dell'azienda che non si concentrerà più solamente su il prodotto stesso ma potrà andare a valutare attraverso l'utilizzo di questa metodologia tutte le diverse fasi quindi dalle fasi relative alla supply chain che possono essere riprobate dalla fornitura di materiali prime i trasporti le lavorazioni le fasi d'uso ma anche poi il successivo smaltimento sempre nell'ottica di inserire questo ragionamento in un obiettivo di più grande termine della sostenibilità che possa riferirsi all'economia circolare abbiamo quindi parlato del life cycle thinking in cui si vuole espandere il focus tradizionale solamente dall'azienda stessa a coprire l'intero ciclo di vita e parlare prima del dettaglio dell'LCA in cui attraverso questo metodo strutturato e standardizzato possiamo andare a quantificare quali sono i potenziali impatti sull'ambiente e sulla salute umana che possono essere associati a un bene o a un servizio questo è molto importante perché permette di trasmettere e valutare eventuali impatti e obiettivi locali che possono essere all'interno dell'azienda stessa o di piccole comunità con gli obiettivi globali e viceversa perché tutte queste informazioni possono essere quantificate utilizzando il metodo dell'LCA che permette quindi di stimare quali sono gli impatti cumulativi dal punto di vista ambientale che sono derivati da tutte le fasi del ciclo vita del prodotto attraverso un bilancio di massa di energia macroscopico sul prodotto questi risultati vengono calcolati e trasmessi tramite delle categorie di impatto che vanno a valutare diversi aspetti attraverso questa metodologia le aziende cosa possono fare possono aiutare possono essere aiutate nel descrivere e quantificare gli impatti dei prodotti portando una sorta di impronta ambientale dei prodotti stessi e eventualmente andando anche a specifiche impronte ambientali come possono essere magari quelle un po' più famose sono quelle della carbon footprint o la water footprint in cui se tramite un anese del ciclo di vita si va un po' più nel dettaglio a valutare specifiche categorie di impatto alcune delle batterie di impatto principali possono essere quella dell'acidificazione del global work che è quella che è un po' più sotto gli occhi di tutti in questo momento ma e ci si sta focalizzando ma non mi devo dimenticare che ci sono molte batterie di impatto relative per esempio all'eutroficazione eutrofizzazione la water scarcity in questo periodo particolarmente come c'era prima Carlo ma anche il fatto che vi sia una diminuzione delle materie prime o anche della diminuzione dello strato di ozono come viene applicata l'LCA l'LCA può essere applicata all'interno di un'ottica di sviluppo e di miglioramento del prodotto per andare incontro a delle etichette delle dichiarazioni ambientali nell'ambito di una pianificazione strategica e per elaborare anche delle politiche pubbliche supportate da dati quantitativi e non solo qualitativi aggiunto a questo questo può essere utilizzato anche nell'ambito del marketing e della comunicazione ambientale questo come è possibile grazie al fatto che l'LCA permetta di creare diverse connessioni sia tra gli ambiti ISO che progetti europei che obiettivi di sviluppo sostenibile e anche gli schemi prodotti dall'Unione Europea per esempio la PEF e il fatto che sia supportato da un numero significativo di ricercatori e fornitori di servizi in ambito della consulenza che coprono questo ambito e vi sia un continuo aumento di interesse e anche di conoscenze per quanto riguarda il settore siderurgico in particolare già i principali gruppi che racchiudono le industrie siderurgiche diversi anni che spingono sotto questo aspetto per andare a utilizzare questa metodologia per portare a dei consumatori verso scelte informate e tenere in considerazione qual è l'intero ciclo di vita dell'acciaio perché come ben sapete l'acciaio non ha una durata molto rapida come può essere per esempio una bottiglietta d'acqua ma il fatto che la sua fase d'uso sia così grande deve anche rendere possibile il fatto che poi questo venga riciclato e riutilizzato successivamente per questo motivo in ambito dell'ACA vi sono delle specifiche regole di prodotto per per esempio ottenere le dichiarazioni di prodotto come tenere in considerazione gli scarti e gli eventuali recuperi per andare incontro a per esempio in questo caso mostriamo alcuni IPD che sono state fatte nel mondo dell'acciaio per esempio come parlava prima Maurizio ultimamente noi abbiamo fatto una dichiarazione di prodotto su diversi prodotti di di Ori Martin che sono liberamente accessibili da tutti e si può andare a vedere queste informazioni e valutare quali siano gli impatti ambientali delle diverse aziende per quelli specifici prodotti per questo motivo poi si vanno a sbloccare anche i diversi meccanismi di mercato per andare a soddisfare le domande sia B2B che B2C per quanto riguarda i B2B per gli end market il fatto che gli sustainable development goals stiano assumendo sempre maggiore importanza porta le aziende a andare incontro a un sempre maggiore interesse verso la progettazione e per il tracciamento dei prodotti in modo tale che i prodotti possono essere presentati in maniera trasparente e possono essere mostrati in maniera chiara ai diversi consumatori per esempio nel caso di auto in cui vengono mostrati come siano fatte tramite dei prodotti sterurgici molto bassi dal punto di vista delle richieste di CO2 o come diverse tipologie di acciaio utilizzate per esempio nei treni possono andare a ridurre i consumi elettrici aumentare la durabilità del prodotto ma anche facilitare successivamente il riuso stesso questo perché è importante andare a valutare in quali aree in quali sustainable goals l'acciaio possa essere molto importante un esempio di questo è l'integrazione dell'acciaio all'interno della progettazione degli edifici perché è sempre presente all'interno di diversi elementi e successivamente nel caso in cui si andrà incontro a una successiva termine di vita utile del prodotto o una modifica successiva dell'edificio per esempio questo acciaio potrà essere riutilizzato dandogli nuova vita questo perché si va incontro a diverse tipologie di gestione per andare incontro a cosa a cercare di produrre cercare di produrre e utilizzare il minimo materiale possibile tramite questa piramide che potete vedere in cui si vanno a indicare quali sono le strategie principali e come diverse aziende diversi esempi mostrano questo quindi sull'evitare di andare incontro a un sovraconsumo e evitare appunto per esempio l'obblescenza programmata in particolare per gli oggetti del mondo elettrico ed evitare il più possibile quindi il landfill in cui il prodotto che finisce la sua attività utile non ha una seconda vita non ha nemmeno un recupero di energia tramite incenerimento per esempio o a termovalorizzazione ma resta solamente nell'ambiente andando incontro invece a problemi di smaltimento e potenziali impatti ambientali questo cosa ha portato portato anche i consumatori ad andare incontro a richieste sempre maggiori dal punto di vista di acquisti consapevoli dal punto di vista ambientale per valutare come le aziende effettivamente facciano attenzione al materiale utilizzato a come un prodotto sia progettato per valutare come questo possa essere riparato o smalti successivamente in particolare per quanto riguarda le nuove generazioni questo tuttavia è un trend che si può vedere che è sempre in aumento magari in questi ultimi anni post costi da quello che è successo e passiamo un po' in secondo piano ma i consumatori cercano sempre di più questo aspetto potete pensare in un supermercato quante nuovi prodotti bio stanno apparendo ultimamente o comunque con diverse etichette questo perché l'interesse del cliente è andare incontro a questa maggiore consapevolezza quando acquista dal punto di vista ambientale questo magari è un po' più spinto sulle persone che sono tra i 20 e i 40 anni rispetto alla generazione precedente tuttavia sono tutti aspetti molto importanti che devono essere tenuti in considerazione nell'ambito in cui si andrà in conto successivamente a una progressiva ci si rilassera conto che successivamente si andrà in conto a un'effettiva finitezza delle risorse sulla terra e non sarà possibile continuare a estrarre utilizzare indiscriminatamente perché al termine quando non ci sarà più disponibile prodotto in maniera semplice aumenteranno i costi di estrazione per esempio ma anche poi riserrà una diminuzione effettiva della sua disponibilità aumentando ancora di più i costi poi per i clienti stessi per questo motivo nell'interno del green economy ci sono degli investimenti che stanno crescendo in maniera molto importante sia tramite l'utilizzo di fondi specifici in cui i consumatori si affidano per investire all'interno di progetti sostenibili che possono essere sia dal punto di vista ambientale ma anche sociale e anche di gestione tutte queste informazioni vanno a portare a un maggiore afflusso di capitale verso i tipologi di progetti per andare incontro alla richiesta dei clienti dei consumatori verso una maggiore attenzione da questo punto di vista questo porta a diverse opportunità ma al contempo è importante sapere come tutte queste siano collegate tra di loro in maniera molto intricata ed è difficile andare a migliorare un aspetto senza toccare l'altro e non dico se migliorare o peggiorare basti pensare al fatto che ultimamente si sta spostando tutta l'attenzione sull'utilizzo di macchine elettriche al posto di macchine con motore a combustione perché banalmente l'energia elettrica emessa utilizzata durante durante la fase d'uso del veicolo non ha emissioni di CO2 tuttavia non si considera quali sono gli impatti a monte per la produzione di questa energia che nel caso in cui sia fatta tramite di turbogas oppure col carbone gli impatti sono semplicemente spostati questo può portare queste informazioni a una sempre maggiore opportunità per le diverse aziende in cui tramite diverse tipologie di attività che possono essere sull'efficientamento energetico oppure sulla ricerca e sviluppo o l'utilizzo anche di energia elettrica verso attività che possano effettivamente spostare le aziende sempre più verso la sostenibilità infatti non tutte le aziende al momento si pongono allo stesso livello ci sono magari delle aziende che stanno spingendo molto di più anticipando anche le richieste dei diversi delle richieste normative sia a livello europeo che nazionale mentre altre magari che tengono solamente il fatto di essere conformi alle norme e nel momento in cui vi sono delle proposte innovative che sicuramente comportano una spesa economica aspettano di più da questo punto di vista tuttavia il mercato va incontro a anche una maggiore e una nuova richiesta di competenza da questo punto di vista perché si va incontro a nuove caratteristiche nuove informazioni che devono essere prese in considerazione e valutate proprio all'interno nell'ottica di accrescere la sottibilità dal punto di vista aziendale andando incontro anche a nuovi modelli di business che tengono in considerazione diverse fasi per esempio l'ecodesign l'utilizzo di materiali che siano salubri e puliti oppure anche il fatto di che si vada incontro a una diminuzione dei rifiuti tutte queste informazioni sono molto importanti e anche nel mondo dell'acciaio vi sono delle possibilità e delle opportunità non indifferenti da questo punto di vista con innumerevoli progetti e potenziali progetti nel futuro per sia l'efficientamento energetico che anche banalmente il riutilizzo di molti prodotti secondari all'interno di produzione dell'acciaio questo tuttavia va incontro a cosa una necessaria integrazione tra le aziende e il mondo esterno per andare a ottimizzare il sistema aziendale la relativa offerta dei beni e servizi per andare a poi rivedere il modello di business di volta in volta cercando di rispettare le richieste del mercato e anche successivamente le richieste stesse dell'azienda per andare in conto successivamente a della diminuzione di capitale generato e potenziali problemi nel futuro rilascio la parola da Carlo grazie allora scusate siamo andati un po' lunghi ma finisco io allora l'ultimissima parte riguarda il la parte tecnologica diciamo più propriamente tecnologica ovviamente normalmente quella che si considera per prima perché l'abbiamo affrontata per ultima perché in realtà la parte tecnologica è quella che arriva alla fine non all'inizio purtroppo perché quello che è emerso in realtà anche dal da quello che vi abbiamo fatto vedere è che comunque la quantificazione degli effetti ambientali è estremamente rilevante quindi se una eco innovazione di processo per esempio è assume una un ruolo assolutamente preminente solo all'interno solo nel momento in cui è messo all'interno di una strategia di eco innovazione dell'impresa attualmente se guardiamo il settore le tecnologie praticamente sono le innovazioni sono di diverso tipo e l'innovazione green è stata sempre una di quelle maggiormente spinte però per essere effettivamente efficace deve essere un'innovazione di tipo come si dice distruttivo oppure comunque devono consentire un cambiamento drastico diciamo degli impatti pur dando diciamo un ritorno economico consistente questa ondata era stata prevista tra l'altro diciamo se guardiamo le aree ondate tecnologiche l'innovazione diciamo sostenibile era diciamo attualmente si fa coincidere con la terza ondata diciamo di innovazione seguendo più o meno le curve di Kuznet ed è quella che attualmente sta guidando gran parte delle industrie soprattutto anche industrie energy intensive come diciamo quella dell'industria siderurgica tutte le innovazioni partono da un concetto di eco design cos'è l'eco design non è nient'altro che un'azione mirata fatta a livello di prodotto quindi in questo caso di materiale oppure a livello di prodotto finale con l'idea di cercare di ridurre gli impatti ambientali del prodotto lungo le diverse fasi del ciclo di vita quindi l'innovazione tecnologica va inquadrata all'interno di di tutta una serie di strategie che attualmente le imprese possono utilizzare che vanno dal dall'utilizzo di materiali a basso impatto all'utilizzo alla riduzione dei materiali all'ottimizzazione delle tecnologie di produzione questo magari è l'aspetto che vi riguarda un po' di più ma anche all'ottimizzazione dei sistemi di distribuzione fino alla riprogettazione dei prodotti nella fase di utilizza e all'ottimizzazione del recupero dei prodotti quindi cosa vuol dire far questo nel settore dell'acciaio vuol dire quindi progettare prodotti che siano cioè tracciare completamente il prodotto fare in modo che io abbia acciaio sempre più da prodotto riciclato e fare in modo che mi torni all'interno del mio processo produttivo una quantità di materiale che è recuperato fondamentalmente quindi ritornano ancora una volta i concetti di economia circolare quindi ovviamente questo vuol dire anche ripensare un po' non solo al prodotto ma anche al processo produttivo cioè vuol dire anche cercare di capire quali sono le parti più importanti in cui va ad agire in cui si va a concentrare diciamo l'impatto ambientale e cercare di agire su quello attualmente gli esempi sono tantissimi in termini di strategie di ecodesign normalmente nelle imprese ci si concentra molto sia sulla selezione di materiali che sulla riduzione degli impatti nella fase di utilizzo dei prodotti nel settore dell'acciaio questo invece vuol dire molto per esempio concentrarsi sui consumi di energia quello che è importante ricordarsi è che le strategie di riduzione dell'impatto ambientale vanno a concidere sempre con una progettualità che vuol dire praticamente che una volta che io decido cosa voglio andare a ridurre devo adottare una metodologia diciamo che segue per esempio se voglio ottenere un prodotto che è più durabile devo attuare tutta una serie di strategie se voglio un prodotto che è più riciclabile devo attuare delle altre quindi tutte queste metodologie sono codificate con diversi nomi a livello industriale adesso cerchiamo di far vedere molto rapidamente sulla durata del prodotto non mi soffermo ecco a livello industriale quello che succede è che io posso applicare moltissimi approcci ve ne faccio vedere giusto un paio per farvi capire se per esempio applico la sostenibilità al settore del building vuol dire che io devo riprogettare i prodotti diciamo del settore building per fare in maniera tale che sia semplice da assemblare abbia una resistenza strutturale maggiore possibilmente e che al tempo stesso garantisca un certo tipo di sicurezza se lavoro per esempio nel per esempio all'interno del recupero delle materie prima invece devo cercare di realizzare delle catene che siano in grado di recuperare dei prodotti e devo cercare di tracciare il mio prodotto in ingresso per esempio come ho fatto otocumpu per cercare di riottenere un materiale che abbia una qualità in ingresso che mi consente di ottenere un prodotto con certe caratteristiche questo è soprattutto importante nell'acciaio perché voi sapete che lotti di materiale riciclato con delle impurezze diverse creano praticamente delle performance molto diverse nel prodotto quindi c'è un problema anche di affidabilità che invece va garantita in una logica di circolarità del prodotto ancora un altro esempio che abbiamo è quello invece di hybrid in cui invece si è cercato di sostituire il vettore energetico quindi cercando di non utilizzare delle fonti fossili ma per esempio utilizzare l'idrogeno verde verde cosa vuol dire? vuol dire ottenuto a partire da energia rinnovabile in questa maniera quindi si è andato a toccare uno degli aspetti più come dire più importanti dell'impatto ambientale del prodotto nel settore automotive ancora questo vuol dire altre cose vuol dire non solo ottenere questo tipo di materiali ma per esempio alleggerire i prodotti e fare in modo che questi prodotti siano più durabili più riutilizzabili le strategie sono molto diversificate a seconda dei vari player ma tendenzialmente hanno tutti sempre degli elementi in comune che hanno a che fare sempre con l'intensità della CO2 nell'acciaio entrante e sulla leggerezza quindi questi sono i due aspetti più rilevanti che emergono infine l'ultimo aspetto per finire riguarda la tracciabilità degli impatti ambientali questo aspetto è di particolare rilevanza perché senza avere la possibilità di tracciare e di quantificare l'impatto ambientale in ambito industriale diventa anche difficile pensare di fare una strategia di eco design quindi anche per questo ci sono nuovi sistemi in ambito industriale che per esempio vanno a monitorare e a ridurre monitorare tutti i flussi di materia ed energia e cercano di qualificare in tempo reale l'impatto legato a dei lotti produttivi quindi questo aspetto è un aspetto di ultima generazione che riguarda l'industria 4.0 in cui personalmente il mio istituto lavora e che si basa fondamentalmente sul fatto di collegare diversi livelli di automazione dell'industria quindi non solo diciamo quelli sensoristici ma anche poi anche quelli legati ai gestionali delle imprese con la finalità di ottenere quindi dei vari tipi di informazioni ambientali riutilizzabili in diversi ambiti quindi non solo per il labelling ma per esempio anche per fare dei report ambientali oppure vari tipi diciamo di claim ambientali che però sono supportati dai dati quindi questo perché perché la base dei dati resta sempre la stessa diventa invece molto importante riuscire a dare questa informazione in tempo rapido e soprattutto in maniera affidabile basta con questo abbiamo finito mi chiedo scusa per l'allungamento ma come vi dicevo le tematiche sono parecchie quindi ricordiamoci sempre che le tematiche ambientali sono diciamo un fulcro non solo dell'industria ma in generale dell'umanità quindi quando agiamo in questo senso non lo facciamo solo diciamo per per la sopravvivenza del settore industriale ma in generale per la sopravvivenza della nostra società grazie grazie Carlo e grazie Michele volevo chiedere se ci sono delle domande se non ci sono domande vi ricordo che la registrazione e le slide che sono state presentate durante questo webinar vi saranno inviate per email ringrazio a tutti per la partecipazione e vi auguro buon weekend grazie ancora grazie arrivederci grazie complimenti per l'esposizione grazie 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 presto grazie buona giornata c'è una domanda forse ah sì esatto vedo c'è ancora una domanda dico a Carlo di rientrare un secondo esatto arrivo lo chiamiamo subito e basta il signor Nereo Mariotto esatto può attivare il microfono può attivare il microfono se vuole farà una domanda grazie ma non ho particolari domande da porre ah ok avevamo visto la mano alzata quindi niente grazie niente niente si figuri grazie mille allora Laura niente grazie a te buona buon pomeriggio attrettanto anche a voi buon pomeriggio saluti saluti grazie a te